L'amore di I1 di Pearl S. Buck, Mondadori editore, traduzione di Andrea Damiano. 1. Nel quindicesimo anno della Repubblica Cinese, corrispondente all'anno 1925 del calendario occidentale, viveva a Shanghai un ricco banchiere, Wu di cognome, il quale aveva due figli. La sua famiglia era ricca da più generazioni ed almeno tre figurava tra le notabili della città, sebbene in modi diversi. Il cospicuo rango che ora occupava era dovuto al fatto che il signor Wu era direttore della grande banca cinese, con filiali in tutto il centro e il meridione della Cina. In gioventù egli aveva fatto pratica bancaria nel Giappone e in Europa e subito dopo il rimpatrio aveva fondato la banca che in breve volgere di tempo era diventata una delle più potenti istituzioni della giovane Repubblica Cinese. Suo padre, il vecchio generale Wu, non si era mai occupato di banche, salvo per le cupide occhiate di cui, da militare qual era, ne aveva fatto oggetto durante le guerre che, del resto, egli non aveva mai combattuto. Nella sua giovinezza, al tempo della defunta dinastia mancese, era stato mandato all'estero, non dai genitori ai quali il viaggio causò in realtà una vera disperazione. Sua madre si sciolse in lacrime e rifiutò cibo finché ottenne che un decreto imperiale rinviasse la partenza del tempo necessario a consentirle di diventare nonna. Ma dall'imperatore stesso, nel breve periodo durante il quale parve che la dinastia si mettesse a riformare sul serio il vecchio esercito male in Arnese. Soltanto quando un bamboccio rosso e strillante fu posto in braccio alla vecchia madre, il bamboccio doveva essere l'attuale signor Wu, il banchiere, ella consentì che il giovane impetuoso generale Wu, allora di 18 anni, partisse per l'estero. Ma le riforme alle quali egli avrebbe dovuto contribuire non vennero mai. Tutti sanno che la forte e influente imperatrice madre dominò il debole figlio e ne bocciò i propositi riformatori. Risultato? Il generale Wu si trovò senza il becco di un quattrino dopo meno di un biennio di soggiorno berlinese. Suo padre gli inviò una somma bastevole per il rimpatrio e fu in quell'occasione che il giovane ufficiale s'avvide dell'importanza delle banche. I banchieri evidentemente erano i veri reggitori delle nazioni, più che gli imperatori o i re. E lì, su due piedi, si propose di far del figliolo ancora bambino un banchiere. Fu abile abbastanza da tradurre in atto il suo proponimento. Prima che la nave sulla quale viaggiava raggiungesse il porto di Shanghai, il suo vecchio padre morì e la madre, incapace di sopravvivergli, concluse anche la vita ingoiando i suoi anelli d'oro e di giada. Così, il generale Wu si trovò di punto in bianco a essere il capo della famiglia, dato che era l'unico figlio maschio. La immensa ricchezza della casata fu tutta sua, sue le case a vite, suoi i fondi nella remota provincia dell'Onan. Il denaro era riposto in nascondigli curiosi. Il defunto signor Wu, poco fidandosi delle banche che del resto non aveva mai capite. Le banche per lui erano un ritrovato puramente straniero per estorcere denaro. Le ingenti somme che possedeva erano di conseguenza conservate a domicilio sotto forma di barre d'argento ben riposte in apposite cassette. Primo atto del generale Wu fu di depositare tutte quelle barre d'argento nelle camere di sicurezza di diverse banche. Successivamente ne impiegò una parte nella costruzione di un grande edificio quadrato di mattoni, scegliendo la concessione francese che fra i quartieri era il più mondano. E vole che l'architetto fosse un francese e che anche internamente la casa fosse arredata nello stile dell'Occidente. Quando tutto fu in ordine si trasferì coi suoi nella casa che sembrava una ricca casa borghese di Parigi. E quando sua moglie si lagnò delle poche comodità, come a esempio degli spessi tappeti, la cui presenza voleva dire fra l'altro che non si poteva buttare nulla sui pavimenti, egli dovete ricordarle che migliaia di donne di altri paesi dovevano adattarsi a disagi di quel genere. Con questa osservazione liquidò del tutto la poveretta di cui sembrò non più accorgersi durante i quaranta e più anni di pacifica vita nella casa. In quel frattempo il figlio maggiore era diventato banchiere. Altri figli erano nati e avevano seguito ciascuno la propria strada, in quanto alle figlie esse non erano mai state incluse nel novero della vera discendenza della famiglia, benché il padre si preoccupasse di accasarle convenientemente. Una volta compiuto questo dovere, smise di pensare a loro. Il figlio primogenito continuò a stare con lui e con la madre che invecchiava nella grande casa francese. E al momento giusto si provvide a dargli mogli una giovane dama di Shanghai, dalla quale ebbe due figli, Ai Ko e Ai Wan. Il vecchio generale Wu fu soddisfattissimo della nascita dei due nipoti. La sua vita era trascorsa pacifica, non era mai stato in guerra e non aveva visto battaglie, ma lo chiamavano lo stesso generale perché il vecchio imperatore, da lungo tempo morto, gli aveva fatto frequentare una scuola militare tedesca. E poi perché era ricchissimo. Del resto possedeva parecchie divise, che si era fatte fare da un sarto di Shanghai, copiando quelle di un generale inglese, di un ammiraglio americano, di un maresciallo francese, piovuti in città in epoche diverse per ispezionare le truppe dei rispettivi paesi con la accantonate. Il vecchio generale Wu in quelle divise ci stava benissimo, ma indossava di preferenza una combinazione di tutte, con in più l'aggiunta di qualche particolare dell'uniforme cosacca. Beninteso non indossava quei panni quando era in casa, che allora preferiva avvolgersi in morbide e pesanti stoffe di raso e broccato in armonia con le pantofole di velluto. Le divise erano appese nella sua guardaroba e toccava a un servo spazzolarle e lucidare le medaglie a ogni mutare di stagione. Una parte delle medaglie se le era comperate, altre gli erano state regalate da gente bisognosa di denaro. In quella casa, Ai Ko e Ai Wan crebbero in uno stato di relativa felicità. Il loro maggior cruccio nasceva dalla diversità delle loro nature. Mentre Ai Wan, infatti, era sempre stato il cocco di tutta la casata, dai nonni ai genitori e fino alla servitù, Ai Ko, il maggiore, era un bambino bizzoso, facilmente viziabile e naturalmente incline, pareva, alla malizia e alla dissipazione. Ai Wan, al contrario, era allegro e tenero di una tenerezza non intaccata dalla familiare indulgenza che aveva moralmente rovinato Ai Ko. A 18 anni era in corso in un solo guaio, un guaio che non aveva mai dovuto spiegare ai genitori del tutto ignari. A quell'età era stato arrestato e chiuso in prigione, dove però rimase una sola notte. Non appena si riseppe di chi era figlio, infatti, il capo carceriere in persona si precipitò nella sua cella col volto in sudore. «Signore, perdonatemi la mia insipienza!» Disse ad Ai Wan che se ne stava seduto su tre mattoni collocati l'uno sopra l'altro in un angolo della lurida cella piena di altri prigionieri. «Ma perché non mi diceste subito, signore, che vostro padre è il signor Wu, il banchiere, e vostro nonno il vecchio generale?» «Beh, se merito di andare in carcere, merito anche di restarci!» rispose maestosamente Ai Wan. Era l'unico prigioniero che indossasse una veste di seta, il cui orlo, peraltro, era insudiciato dai rifiuti. Un giovane del gruppo dei detenuti gli domandò con sarcasmo «Perché non ti rimbocchi quella tua lussuosissima veste?» Era un giovanotto dall'aspetto rozzo vestito della divisa di ruvido cotone azzurro della scuola governativa. Ai Wan, invece, frequentava una scuola privata tenuta da missionari per i figli dei ricchi nella quale l'uniforme non era di prescrizione. Gli scolari di quell'istituto vestivano sempre tuniche di seta. «Perché ne ho di migliori?» rispose Ai Wan. In quel momento entrò il carceriere. Udendo quello che diceva Ai Wan l'espressione di spavento gli si accentuò sul viso. «Non siate in collera con me, giovane signore!» sopplicò. «Vostro padre, per poco che lo voglia, potrebbe farmi licenziare da questa bella prigione e io sono un povero uomo. Uscite, io vi farò chiamare una carrozza e vi restituirò a vostro padre senza torcervi un capello. Vi domando soltanto di intercedere per me quando sarete a casa vostra, ve ne supplico!» Ai Wan fu tentato di rispondere con alte rigia, rifiutando, ma aveva solo diciotto anni. Era stanco e affamato e la cella era lurida. I suoi compagni di sventura d'altronde formavano un gruppo di gente cupa e sordida di tutte le età. Solo il giovane studente indivisa aveva l'aria decente, perciò salzò con dignità e uscì. Mentre, tuttavia, lo spaventato carceriere stava per richiudere il portone di ferro, Ai Wan si fermò. «Aspetta!» ordinò. «Libera anche lo studente!» «Non posso!» «Davvero non posso!» disse il carceriere. «È un rivoluzionario!» «Anch'io lo sono!» replicò Ai Wan. Era la verità, poiché come rivoluzionario era stato arrestato nella scuola straniera. Erano venuti dei soldati e avevano proceduto a una generale perquisizione. Ai Wan era stato sorpreso a leggere un libro allora molto popolare fra gli studenti, un libro scritto da un tedesco, un certo Carlo Marx. Abituato a fare il comodo proprio, non ne aveva fatto mistero quando i soldati vollero sapere da lui che cosa leggeva. «Lego Carlo Marx!» aveva risposto con sarcasmo che cosa ne sapevano loro. Ma con sua stupefazione fu subito arrestato. I soldati lo trascinarono via e lo gettarono nella cella dove era rimasto un'intera notte a mordersi le mani, prima sfogandosi ad alta voce, finché gli altri prigionieri gli intimarono ringhiosamente di star zitto e di lasciarli dormire. «Il figlio del grande banchiere Wu non può mai essere un rivoluzionario!» gli disse ora il carceriere. «Ai Wan batte i piedi per terra. Ti farò perdere il posto, bada a te!» gridò. Il carceriere divenne ancora più pallido. «Ma come potrò giustificarmi?» «Belò!» «Dirai che te l'ho ordinato io e che io sono l'unico responsabile!» Mentre così parlavano il giovanotto si fece alla porta impassibile nel volto quadrato ma gli occhi gli brillavano intenti. «Oh cielo!» si lagnò il carceriere. «Oh misericordia!» Ai Wan gli strappò di mano le chiavi e aprì lui stesso il portone di uscita mentre quello si strappava i capelli gialli e gemeva. «Puoi dire di non saperne nulla di nulla!» fece Ai Wan spingendo la porta col dorso e puntando un piede per terra per tenerla aperta solo quel tanto che bastava per lasciar passare il giovanotto il quale infatti uscì senza farsi pregare e restò fuori in attesa. Ai Wan richiuse allora il portone e restituì le chiavi al carceriere poi toccò il braccio del giovanotto e insieme si allontanarono seguiti dagli sguardi dei prigionieri coi sudici e sinistri volti appoggiati alle sbarre. I due giovani tacquero finché non furono saliti sulla carrozza chiamata per loro dal carceriere spero signore disse questi rivolgendosi supplichevole ad Ai Wan che vi renderete conto della mia posizione nel caso mi si chiedesse fammelo sapere rispose seco Ai Wan e diede al cocchiere l'indirizzo della casa di suo padre erano già sulla carrozza ma udendo quel nome il giovanotto si volse verso Ai Wan capirete che in casa vostra non ci posso venire obiettò e perché poi beh io sono un rivoluzionario sul serio dichiarò il giovanotto sorridendo in modo curioso davvero interloqui Ai Wan ho sempre desiderato di trovarne uno che fosse come voi dite di essere all'università siamo in molti ribatté con indifferenza il giovanotto poi prima che Ai Wan avesse potuto fermarlo salto giù dalla carrozza che procedeva lentamente mi chiamo Liu En Lan e vi ringrazio per la libertà disse un attimo dopo prima che Ai Wan potesse riacchiapparlo era scomparso tra la folla non senza prima voltarsi a guardare Ai Wan con un largo sorriso luminoso e ad Ai Wan non restò che tornarsene a casa rientrando notò che nessuno si era accorto della sua assenza gli era capitato spesso di tornare a casa tardissimo dopo il teatro che fra tutti i divertimenti prediligeva soprattutto quando gli dava modo di assistere a spettacoli sugli eroi dei tempi passati le vicende del buon ladro che ruba i ricchi per dare ai poveri lo avevano sempre appassionato due o tre volte tutta la settimana andava a quegli spettacoli e rientrava all'alba aprendo lui stesso il portone con la chiave che gli era concessa in casa tutti dormivano fino a tardi così per un'abitudine ormai vecchia egli faceva colazione da solo e andava a scuola senza vedere altri che i servi uscito dal carcere andò di filato in camera sua al piano superiore così come aveva sempre fatto si avvicinò al letto e lo disfece come se ci avesse dormito sopra poi si spogliò prese il bagno e sulla biancheria di seta candida indossò una semplice veste di seta azzurra aveva appena finito quando udì qualcuno tossire discretamente la porta si aprì e comparve la cameriera di sua madre peonia col vassoio del tè come ogni mattina sono in ritardo si affrettò a dire vedendolo già vestito non mi sono svegliata in tempo stamane non importa rispose aiwan non frequento più la scuola straniera come mai domandò stupita peonia deponendo il vassoio da oggi frequenterò la pubblica università l'università ma ci può andare chiunque esclamò la ragazza perciò posso andarci anch'io tuo padre non te lo permetterà e tuo nonno nemmeno e io in tal caso farò lo sciopero della fame dichiarò energicamente aiwan il che significa disse peonia con malizia che toccherà a me portarti da mangiare nascondendo le provviste sotto la tunica come ho fatto altre volte quando ti occorreva qualcosa vergogna aiwan imitare i sotterfugi di haiko e risero entrambi così aiwan riuscì a frequentare l'università nazionale a conoscere i rivoluzionari e a sposarne la causa andò infatti a finire che sua madre non appena si accorse che egli per averla vinta faceva lo sciopero della fame corse da suo padre mentre la nonna dal canto suo tempestava il nonno non passarono quattro giorni che aiwan indossava la stessa divisa di liu e lan con la sola differenza che sua madre volle che fosse confezionata con la migliore stoffa inglese e con l'arte del sarto del nonno su questi due punti aiwan cedette anche perché si trattava di poca cosa e perché d'altronde era concessa ai genitori e ai nonni una certa soddisfazione dopo tutto dissero costoro ispezionando la nuova divisa quando aiwan lebbe indossata gli sta a pennello vieni qua esclamò la nonna lascia che ti senta le guance di nuovo per amor di compromesso egli si chinò e le permise di palpagli le guance con le vecchie mani rinsecchite sei grassoccio sei grassoccio mormorò la nonna e anche questo gli tollerò perché dopo tutto era riuscito a spuntarla in capo a un biennio nel quindicesimo anno della repubblica aiwan senza che nessuno della sua famiglia immaginasse una cosa simile era diventato uno di quei rivoluzionari di cui si erano costituiti gruppi in ogni scuola cinese viveva due vite affatto diverse e distinte una quella vecchia era la vita dell'ultimo genito di una famiglia ricca e l'altra quella di un giovane ardente fra gli altri giovani del suo stampo comessi sognante di rovesciare la nuova repubblica per istituirne un'altra ancora più nuova visto che tutti erano ribelli alla forma repubblicana così come gli ave erano stati ribelli al trono le due esistenze di aiwan non avevano alcuna interferenza reciproca nessuno dei suoi compagni di scuola aveva visto il gran casone quadrato dove abitava ma un giorno mentre rientrava da scuola qualcuno lo raggiunse da un pasticcere delle vicinanze nel cui negozio si era fermato e lo chiamò per nome era Peng Liu uno della banda rivoluzionaria l'unico che non gli andasse a genio figlio di un piccolo bottegaio della città di esile di aspetto equivoco con certi occhietti accostati e una larga bocca dalla quale usciva un fiato fetido Peng Liu non era simpatico a nessuno per quanto di quei suoi difetti non avesse colpa aiwan dove vai a casa replicò aiwan ma subito si pentì vedendo Peng Liu faglisi a fianco e accompagnarlo passo passo finché furono davanti alla casa cammin facendo aiwan aveva tuttavia deciso che non lo avrebbe invitato ad entrare Peng Liu infatti non avrebbe mai capito come mai aiwan che pur si professava rivoluzionario vivesse in quel luogo e non si sarebbe certo sentito stimolato ad una maggior simpatia per lui notando quel lusso ma come mai Peng Liu era da quelle parti la sua casa era lontana nel quartiere cinese forse lo aveva pedinato si fermò sul portone d'ingresso e si passò i libri di scuola dall'una all'altra mano poi si guardò rapidamente attorno sbirciò le note finestre per accertarsi se Aiko non fosse per caso affacciato a una di esse ma non vide nessuno ne ebbe piacere che si disse se Aiko avesse notato il povero vestire e la faccia smunta e patita di Peng Liu avrebbe subito sospettato qualcosa in giro c'era poca gente ozziante al sole caldissimo di una giornata shangaina di primo settembre disse perciò con voce bassa e chiara a domani compagno a domani disse in fretta Peng Liu vigliaco pensò con disprezzo Aiko ha paura di dire compagno anche quando non c'è nessuno vicino che senta ma Peng Liu indugiava ancora e questa è la casa dove abiti domandò con meraviglia alzando gli occhi per ammirare la grande casa quadrata di mattoni con portico accolonnati non ci posso far nulla disse Aiko è stata fatta costruire da mio nonno mio padre abita con lui e naturalmente io vivo con mio padre bella casa straniera osservò Peng Liu ma ad Iwan dispiacque l'umiltà del tono pensò mi piacerebbe entrare ma io non lo inviterò Aiko del resto lo disprezzerebbe addio disse forte addio rispose Peng Liu Iwan si fosse di scatto salì di corsa alla scala di marmo riparò nel suo appartamento ma per quanto furtivo il suo ingresso non lo era stato abbastanza perché la nonna in quel momento non ancora sotto l'azione diretta dell'opio non se ne accorgesse la nonna gli voleva un gran bene faceva in modo di evitare di fumare l'opio nell'ora del ritorno del nipote dalla scuola quel giorno Iwan era in ritardo a causa di una riunione segreta e poi perché avendo fame si era trattenuto nella pasticceria la voce della nonna suonò dunque impaziente allora quando lo chiamò Iwan vieni qui dove sei stato in quel momento dalla stanza della vecchia usciva Peonia prendendogli libri il cappello e l'atteggiò senza suono le labbra a queste parole è irritatissima Iwan scrollò le spalle e aggrottò la fronte vengo nonna rispose poi a Peonia hai qua rientrato? aspettò finché la vide a scuotere il capo e poi entrò nella camera della nonna ogni giorno dall'età di sei anni da quando cioè aveva cominciato ad andare a scuola aveva dovuto obbedire alla chiamata della nonna non appena rientrava a casa e sempre più quell'obbligo gli era riuscito ostico anzi odioso l'idea che la vecchia lo aspettava e che lui doveva andare da lei lo rannuvolava al sole evocarla quando nelle riunioni segrete coi compagni rivoluzionari si era parlato di liberarsi dai ceppi della famiglia egli era sempre balzato in piedi per affermare a gran voce fino a che non ci libereremo dalle nostre famiglie non concluderemo mai nulla di buono così dicendo pensava alla propria famiglia ma soprattutto alla nonna eccomi nonna rispose ora di malavoglia ma la vecchia non badava mai a suo scarso entusiasmo seduta sull'orlo del grande divano quadrato con la pipa e la lampada per bruciare l'oppio a portata di mano non aspettava che lui vieni un po' qua disse egli obbedì avvicinati che ti senta insistete la vecchia dovete avvicinarsi ancora sebbene nulla gli fosse più odioso lei allungò la mano sottile dalle lunghe unghie gliene prese una delle sue e gliela strinse hai i palmi umidi esclamò beh fuori fa molto caldo scommetto che sei venuto a casa di corsa lo rimproverò lei quante volte ti ho detto che non devi mai affrettarti la fretta distrugge la forza della vita a me piace camminare in fretta dichiarò Aiwan non si tratta di sapere quel che ti piace e quel che non ti piace obiettò la vecchia piuttosto devi considerare la famiglia tu sei il mio nipote era proprio quello che gli dava più nausea quel senso di contare agli occhi della nonna semplicemente perché era il suo nipote una persona cui incombeva all'obbligo di continuare la famiglia qualche volta devo pur fare quel che mi piace rispose musonito gesto rapido lei gli afferrò il polso tra il pollice e l'indice hai sempre fatto a modo tuo disse forte non pensi che a te stesso come tutti quelli della tua generazione anche ai coe come te per tutta la giornata non si è fatto vivo subito tuttavia temete di averlo contrariato e per fare ammenda allungò una mano verso una scatola di dolci sempre tenendolo ben stretto con l'altra e gli regalò un dattero candito e gli fu tentato di rifiutare ma l'offerta gli stimolò la fame aveva sempre fame prese il dattero aggrottando la fronte e lo mangiò ecco disse ridendo la vecchia non offro datteri che a te solo caro e cominciò a carezzargli il braccio sotto la manica hanno bene al sangue non ne mangiamo che io e te quantunque alzò la voce affinché Peonia che aspettava nell'altro la potesse udire e precisò quantunque io sappia benissimo che quella miserabile schiava me ne ruba quando dormo io signora interloqui con voce tranquilla e argentina Peonia di là dall'uscio non ho mai rubato nulla signora io a chi lo dice osservò la vecchia rivolta da Iwan quella ragazza ruba tutto quello che le viene a tiro è stata presso di noi per undici anni ma non ci serve alcuna riconoscenza quando la comperammo non aveva che sette anni e già rubava Iwan non rispose non avrebbe difeso Peonia e non sarebbe quindi in corso nel malumore della nonna la quale lo avrebbe accusato di cattiveria aveva commesso quell'errore già una volta ritirò la mano e disse nonna per domani devo portare a termine un lungo compito d'inglese sì sì vai disse in fretta a lei non devi star su fino a tardi buonanotte nonna fece inchinandosi Iwan no non ancora buonanotte corresse su asiva la vecchia prima di andare a coricarti fatti vivo di nuovo ma ti troverò istupidita dalla droga scattò Iwan quasi con violenza no disse ansiosa lei no fammi sapere quando vieni e io ti aspetterò bene e sveglia non posso come faccio a sapere quando avrò finito con tutti quei libri la vecchia sospirò i suoi occhi caddero sulla pipa dell'oppio sembrò esitare un attimo e poi è vero mormorò aspettò un istante poi chiamò Peonia eccomi rispose la chiamata entrò nella stanza a passi felpati aiutò la vecchia a distendersi e preparò la lampada Iwan era ancora lì ti ho messo i libri sul tavolo gli disse la vecchia aveva già chiuso gli occhi dovresti vergognarti le sussurò Iwan aiutare così il suo vizio Peonia sbarrò gli occhioni neri a forma d'albicocca obbedisco agli ordini io disse egli aggrottò la fronte scosse il capo e s'avviò alla porta quando fu sulla soglia si voltò un attimo a guardare e vide Peonia che rimestava la sostanza appiccicosa con un minuscolo cucchiaio d'argento gli occhi maliziosamente rivolti verso di lui quando i loro sguardi si incontrarono ella gli mostrò un palmo di lingua e Iwan rispose sbattacchiando la porta